buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale di ranchers 3d oggi vediamo come andare a modellare una zuccheriera di plastica questo perché perché mi è passato tra le mani in questi giorni mentre bevevo il caffè e mi chiedevo se era difficoltoso andare a modellarlo oppure no mi sembrava abbastanza semplice però un pochino di grado di difficoltà c'è e quindi mi son detto che era interessante condividere con voi e questi tipi di difficoltà per vedere anche le soluzioni da intraprendere per andare a modellarla in modo corretto comunque la state venendo in sovrimpressione qui sullo schermo diciamo questo è un piccolo rendering finale proprio molto semplice e vediamo subito come andare a andare a modellarla facciamo una cosa prima di tutto andiamo a vedere se nelle nostre unità siamo in centimetri perfetto gli diamo l'ok andiamo nella vista frontale ok e andiamo a importare a inserire l'immagine della zuccheriera ecco poi ma l'immagine la lascio leggermente ferma in sovrimpressione così se volete poter fare uno screenshot e potrete andare utilizzare anche quella voi di modo che abbiamo gli stessi tipi di immagine ok vediamo quale andare a prendere così ok prendiamo prima di tutto quella laterale quindi apri perfetto e andiamo possiamo anche andare a importare laterale in questo modo qua perfetto ok poi questa immagine qui andiamo metterla su un livello per me e l'immagine mettiamo una livello 5 che lo chiamiamo foto ok vediamo bene foto perfetto andiamo cambioggetti livello benissimo poi andiamo nelle proprietà del materiale e abbassiamo la trasparenza così non ci disturba torniamo nei livelli blocchiamo livelli perfetto e poi andiamo nel primo livello chiamiamo corpo ok poi faremo un altro livello che lo chiamiamo base e un altro un altro livello che lo chiamiamo coperchio coperchio io penso che questo è un livello che ci interessano anzi facciamo un livello curve ok quindi curve perfetto benissimo ok allora prima di tutto ecco vediamo un minimo di difficoltà di difficoltà allora andiamo vedere l'immagine e valutiamo quindi qual è il grado di difficoltà che ci ci si presenta ci ragioniamo un attimo in sopra assieme di modo che capiamo con molto grande va bene eccolo qua questo ok perfetto ok eccolo qua ecco diciamo una prima difficoltà può essere questa diciamo del bordo con questo decoro un po particolare che bisogna andare a capire come fare a realizzarlo ok perché essendo che gira tutto attorno potrebbe essere la prima difficoltà ma la difficoltà più grande che ho riscontrato a parte questa ok è questa qua perché questa qui perché questo decoro non è orizzontale al nostro al nostro azucariere ma è in diagonale e quindi questo ha rappresentato una piccola sfida chiamiamola così ok ma di qualcuno c'è già arrivato come fare a modellarlo però ecco diciamo per per me è stata una piccola sfida quindi vediamo assieme come fare vedete che è in diagonale da questa parte mentre orizzontale in quest'altra ok facciamo una cosa prima di tutto andiamo a definire diciamo il come si dice la il centro perfetto perfetto della zuccheriera quindi andiamo prenderci una linea ci mettiamo al centro togliamo un po gli snap ci mettiamo perfettamente al centro shift da tastiera ok e ok allora e allora la zuccheriera ok perfetto allora per prima cosa possiamo andare tranquillamente a creare una rivoluzione per andare a creare la nostra prima superficie che è il corpo diciamo come vediamo qua il corpo della zuccheriera quindi andiamo ad abilità lo snap solamente con il fine quindi ci prendiamo una pollina ci snappiamo qua arriviamo qui ci fermiamo togliamo il gambal che momentaneamente non ci interessa ok e poi andiamo a prendere andiamo a prendere degli archi che quindi ci snappiamo qua ci snappiamo qui ok facciamo il nostro prima il primo arco in questo modo qua perfetto ok questo lo andiamo subito a unire e poi andiamo su in alto sempre con una una linea che andiamo a unire anche questa ok ok perfetto quindi per prima cosa abbiamo creato il profilo della della zuccheriera e quindi questo lo mettiamo subito nel livello curve e andiamo a creare una rivoluzione per andare a creare una rivoluzione andiamo nelle superfici quindi clicchiamo su rivoluzione ci snappiamo in fondo verso l'alto invio invio e invio perfetto e quindi dovremmo avere già la nostra prima rivoluzione quindi andiamo qui nell'ombreggiata perfetto vedete ok quindi abbiamo la nostra immagine in centro e la nostra rivoluzione perfetto ok adesso quello che dobbiamo fare è andare a fare il taglio quindi del bordo del della mia superficie che è questo ok prima di fare il bordo e per fare il bordo quindi e non avere troppe difficoltà nel realizzarlo dobbiamo andare a utilizzare questo tipo di comando che troviamo che troviamo qui mi sono perso scusate un attimo che lo trovo subito ok che troviamo qua ok si chiama crea curve uv quindi crea curve uv vuol dire clicchiamo selezionare superficie per creare curve uv quindi sarà questa superficie diamo invio ok e cosa succede è che rhino ci va a dipanare ok il nostro il nostro soldo su una cioè ci va a srotolare tra virgolette il nostro solido su una con una faccia perfettamente orizzontale ok questo ci permette di andare a proiettare tra virgolette delle curve sopra direttamente sopra la superficie ecco perché ecco come fare diciamo a realizzare questo di rigoro chiamiamo così allora per realizzarlo possiamo tranquillamente partire da qua e andiamo un attimino a a a crearlo da qui quindi prendiamo sempre un arco ok poi poi partiamo da qua arriviamo qui e tiriamo l'arco verso l'alto in questo modo qua perfetto e questo è fatto poi andiamo nella vista di destra perché perché dobbiamo andare a ad appoggiare l'arco diciamo sul piano c quindi con ruota 2d lo appoggiamo sul piano c vedete eccolo qua quindi prendiamo il nostro arco e andiamo a posizionarlo in alto perché perché è questo bordo è quello che corrisponde al bordo della della nostra rivoluzione che è questo ok allora non siamo sullo stesso livello perché siamo non siamo partiti dal piano c a realizzare questo forse non è un problema proviamo a vedere al limite ce lo portiamo verso il basso portiamocelo subito verso il basso finita di allora vediamo mettiamo medio perfetto sposta ok vicino va bene quindi mi snappo il medio e mi snappo qui perfettamente ok andiamo nel superiore di nuovo ci portiamo il nostro virgore qua ok e adesso dobbiamo andare a calcolare quanti più o meno ce ne stanno arrivano in fondo più o meno dovrebbero essere sugli 11 12 una cosa del genere proviamo a vedere quindi andiamo a prendere serie lineare eccola qua quindi serie lineare numero di elementi 12 diamo invio ok ok partiamo da qua e andiamo a creare i 12 elementi in realtà sono 11 però non fa niente così così ok perfetto questo è in più però lo teniamo lo stesso ok ok anzi quindi potremmo andare a creare 13 ok ctrl z allora ne facciamo 13 in realtà allora selezioniamo serie lineare 13 invio prendiamo e andiamo a portarle a questa distanza perfetto ok e poi andiamo a posizionarli anzi per posizionarli al centro questo facciamo un gruppo quindi creiamo un gruppo ok poi andiamo a prenderci gli allinea ok e dobbiamo linearli in verticale quindi se questo è spostato teoricamente dovremmo riuscire ad allinearli in verticale ok perfetto però non è al centro lì vedete qui non è al centro quindi possiamo andare a stirarli quell'attimo quindi andiamo a prenderci scala 1d quindi ci snappiamo alla fine e alla fine e andiamo a a stirarli un attimo facciamo idem come prima perfetto ok andiamo quasi al centro quasi al centro ancora un attimo quindi di nuovo scala 1d scala 1d scala 1d 1 2 disabilitiamo e andiamo a ecco un attimo ok quindi di nuovo perfetto ah beh non cambia perché devo cambiare devo cambiare io la distanza in automatico devo cambiarla allora facciamo una cosa no facciamo una cosa siccome sono 13 ok li sgruppiamo ok quindi selezioniamo solo questi e li eliminiamo rifacciamo da qua una serie lineare 13 o bene invio primo punto di riferimento e il secondo sarà più o meno qua non ci siamo 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 ecco non ci siamo ctrl z allora vediamo avviciniamo un certo di più selezionare dolci in via vediamo vediamo ctrl z no e fare 13 invio allora 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 ctrl z invio ok teniamo un buono così ok e dopo andiamo a metterlo a posto va bene dai va bene allora poi lo metteremo a posto quindi adesso dobbiamo andare a collegare questi profili quindi colleghiamo i profili con uno e uno due non questo non era questo scusate non era raccordo file curve ma era raccordo blend arco quindi uno due ok uno due ok per continuare a dargli diciamo se scomando invio da tastiera o destro del mouse di modo che lui va a collegare ok ok di nuovo e si ripete lo stesso comando perfetto aspettate uno uno due ok uno uno due perfetto di nuovo uno due di nuovo uno due uno uno due perfetto uno uno due non me l'ha preso uno due sì ok uno due ok uno due ok perfetto quindi a questo punto io direi di fare una cosa vediamo eh dovremmo riuscire a sposta quindi medio un po' fine o fine aspetta togliamo il film ok mettiamo il vicino uno ok e questo è uno ok facciamo così allora che facciamo prima quindi prendiamo scalone 1d scalone 1d ci snappiamo al medio sempre qua qui perfetto poi ci risnappiamo al medio perfetto togliamo il vicino quad ok e vicino ok ok adesso sì che ci siamo adesso sì che ci siamo va bene adesso è perfetto adesso è perfetto va benissimo ok scusatemi a volte mi perdo con queste cose va bene pazienza dai allora l'importante è aver raggiunto il nostro risultato ok adesso dobbiamo andare a tagliare ovviamente la parte in eccesso quindi andiamo a tronca selezioniamo quinti la parte che non ci interessa e tronca allora sbagliato 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 quindi allora abbiamo detto tronca tronca selezioniamo invio e tronchiamo ciò che non serve cioè questo quindi questo va eliminato idem dall'altra parte quindi tronca selezioniamo invio e tagliamo perfetto via anche questo e poi andiamo a congiungere questi quindi a unirli perfetto come se fosse un unico oggetto adesso andiamo a riportare queste curve sopra il corpo della zuccheriera quindi come facciamo ritorniamo su carrile curve uv stavolta invece di cliccare col sinistro del mouse cliccheremo col destro del mouse ci chiederà di selezionare tutte le curve le selezioniamo diamo invio col destro del mouse selezioniamo la nostra superficie vedete che in automatico lui ci riporta le curve sopra sopra il nostro il nostro oggetto poi faccio esc ctrl z perché la voglio portare leggermente più in alto quindi seleziono attivo magari il gumball lo porto su il gumball un attimino e me lo porto un po' più vicino al bordo e rifaccio in nuovo lo stesso procedimento quindi destro del mouse seleziono tutte le curve invio seleziono perfetto e mi ritrovo di nuovo le curve appoggiate perfettamente sulla superficie facendo questo vediamo nel frontale vabbè non è non si collega lì però non fa nulla non fa niente potremmo allora no abbassarla di più perché così poi andiamo a creare il nostro probabilmente erano giuste prima lo rifacciamo selezioniamo la curva ok diamo invio superiore e l'abbasso di nuovo quindi più o meno qua la roba così ok di nuovo prospettica e rifacciamo di nuovo ok selezioniamo invio curve invio perfetto quindi frontale ok più o meno siamo all'altezza giusta ok fatto questa cosa che facciamo non ci resta altro che andare a troncare la superficie quindi andiamo su tronca selezioniamo la curva invio e tronchiamo la parte che non ci interessa eccola qua e abbiamo già fatto il nostro il profilo della zuccheriera ok perfetto adesso una volta fatto il profilo dobbiamo andare a creare invece quest'altra superficie perché ovviamente questo sarà il corpo della zuccheriera che sarà in plastica semi trasparente mentre l'altro sarà una plastica opaca e semi lucida ecco per fare questo il concetto diciamo del delle curve ok delle curve uv e più o meno è similare l'unica cosa che dobbiamo ragionare in modo leggermente diverso non ovviamente in orizzontale ma dovremo ragionare su una su un arco quindi diciamo queste curve noi dovremo andare a posizionarle sopra un arco e andare a farle combaciare perfettamente diciamo sull'arco stesso ok perfetto questo lo vediamo al limite la prossima volta intanto ci fermiamo qua e ci vediamo al prossimo video grazie a tutti e buongiornata a